Trattieni l'aria per qualche istante e lasciali andare e immagini. Grazie alla tua anima di aver preso del tempo per te stesso. Ho ritrovato la mia bambinetta piccola. Vai te, testimonianza Talent Club Adventure. Io ho ritrovato Emanuela, l'allegria che avevo perso l'ho ritrovata qui. Io ho ritrovato tutta l'energia che non avevo più da anni. Sono fantastici, lo consiglio a tutto il mondo. Amore e voglia di vivere. La vita è una e va vissuta in piedi. La mia testimonianza, il gruppo è una cosa fondamentale. La squadra è una cosa fondamentale. Bisogna far capire alle persone che fare le cose insieme si possono fare, si devono fare. Ed è l'unico modo sicuramente che la persona possa sentirsi pieno di sé fatte tutte insieme. Il tuo talento? Il mio talento? Sì, è uscito? Il mio talento, sì. Cercavo delle risposte per il mio talento artistico riguardante la musica. E quindi, grazie a questo corso lo consiglierò a tutti quelli che conoscono. Grande!